Noi siamo concentrati per fare un grande capodanno all'insegna soprattutto della convivenza, del portare in piazza e nel lungomare e nelle strade di Napoli centinaia e centinaia di migliaia di persone, più gente c'è per strada, più la città vive, più la città è sicura e non parlo di terrorismo in questo caso, ma parlo soprattutto di lotta alla criminalità comune ed organizzata, la cultura e la vitalità di questa città stanno rappresentando una grande iniezione di fiducia, sarà un capodanno molto bello a piazza Pellebiscito, ricchissimo di iniziative, di artisti tanti, 5 palchi in tutto il lungomare, i fuchi d'artificio, un albero, abbiamo tutto esaurito negli alberghi, quindi veramente è il miglior Natale, il miglior capodanno da quando faccio il sindaco di Napoli, al netto dei problemi lo voglio dire, se no diranno che il sindaco racconta solo la Napoli bella, no, anzi il sindaco è impegnato, compreso ieri sera e compreso stanotte, ad affrontare problemi molto delicati della nostra città che continuano a non diminuire perché i problemi da affrontare e che noi vogliamo affrontare sono ancora tanti, però detto questo godiamoci una città di cui oggi si parla nel mondo come essere molto più trend di Roma e andiamo a vedere che Roma capitale, le risorse economiche, forse un giorno si dovranno raccontare le risorse economiche che Roma e Milano hanno avuto in questi 5 o 6 anni e come Roma e Milano, compreso il cambio politico, sono ancora travolti dalla questione morale, mentre noi ci pigliamo anche un'altra medaglietta che a noi fa molto onore di essere stato nella blacklist di Romeo, Bocchino, Lettieri e Valente, insomma questo ci fa particolarmente onore, grazie a Romeo.